0-0 tra Italia e Coppia, Ranio e Tanto venga via via, viene fermato nel pallo laterale E Mussi ora che si impegna lì dietro per Costa Curta, parte del suo lungo lancio per il colpo di testa di Irvi Poi la conclusione splendida e il gol da parte di Donadoni Ottimo, 3 minuti di gioco Ottimo, 3 minuti di gioco Ottimo, 3 minuti di gioco